quando fai la calore mare passi spontanelle 0 4 22 ma dimmi il tormento tango no che pino sarò come i coglioni eh scolta doppia zunua la bea doppia zunua la bea ma era stato spell in il tormento tango oscar lima mai ecco doppia zunua oscar come si chiamava quando ero io in centrale centrale grano diomostro diomostro centrale grano diomostro bella perché mancava questo la ultinese è una becazienza compagnia scusa compagnia carabinieri tolmezzo chi aveva le sue dipendenze allora centrale grano villa santina stazione palusa centrale stazione basso monte croce diomostro diomostro 8 12 15 18 centrale centrale no ma se che le pare l'uomo no non so stasi ma se che le pare l'uomo non so paularo stazione ma è roba dai dimmi tolmezzo dimmi dimmi villa santina paularo dimmi palusa dimmi dimmi quante dimmi quante stazioni ha la compagnia di tolmezzo sotto le sue dipendenze dimmi no dai dimmi 15 tolmezzo villa santina paularo dio mostro io ti scavorisco che vedi che tè in testa è più bella di tutta bro no è bella gemona 0432 villa santina osoppo sotto la compagnia di tolmezzo dio non che st non credo un